Abbiamo affrontato quest'anno con grandi aspettative e con molta fiducia. Poi siamo caduti. Ci siamo rialzati. Ma siamo caduti di nuovo. Poi ci siamo rialzati. La prima ondata è quella di oggi. Sta soprattutto sull'aspetto sociale e psicologico. E ancora. Ma ci stiamo rialzando di nuovo. Una città che sa essere grande anche nelle difficoltà. E proprio perché siamo caduti così tante volte, questo Natale vale molto di più. E' ora di riconquistare la fiducia e di rialzarsi ancora una volta con coraggio. Tanti auguri Firenze. La fiducia